I siciliani pagano per la gestione dei rifiuti tariffe alte senza che a questo corrisponda un servizio efficiente e all'altezza delle aspettative. La media regionale è di 386 euro annui per una famiglia di tre persone e un'abitazione di 100 metri quadri a fronte di una media nazionale di 312 euro. Maglia Nera tocca alle città di Catania con 504 euro annui, Agrigento con 428, Messina con 422, Meglio Palermo 309 ed Enna 254 dove si è riscontrato nell'ultimo anno un abbassamento delle tariffe del 9%. A fare il punto della situazione per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Sicilia sono la CGL e la Feder Consumatori regionale. A fronte delle tariffe, emerge dall'analisi delle due sigle, si registrano strade sporche e cumuli di spazzatura in una regione che è ancora fanalino di coda per la raccolta differenziata, 42,3% a fronte della media nazionale del 63%, che manda in discarica il 59% dei rifiuti urbani prodotti, media nazionale il 20%, che non ha un'impiantistica adeguata per il riuso e il riciclo che l'Unione Europea indica come principali obiettivi del futuro. I comuni, ha detto Alfio Mannino, segretario generale della CGL Sicilia, nella conferenza stampa, dovranno adeguarsi alle nuove regole definite dall'area Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e la Regione deve modificare la legge di rifedimento riducendo dagli attuali 18 a 9 gli ato cui affidare la pianificazione. Alfio Larosa, presidente di Feder Consumatore Sicilia, ha invece sottolineato la necessità che le amministrazioni locali definiscano il proprio regolamento entro il 31 marzo per fare scattare gli standard qualitativi a partire dal gennaio 2023. La novità del nuovo sistema sarebbe la possibilità di un controllo democratico sulla qualità dei servizi.